Non sarà un passaporto sanitario né una patente di immunità. Il presidente della regione Nello Musumeci chiarisce che in queste ore si sta lavorando ad un protocollo di sicurezza con l'obiettivo, dice il governatore, di rilanciare l'economia e non seminare morti. È in atto quello che per Musumeci è un conflitto tra cuore e ragione, perché il cuore vorrebbe che tutti gli alberghi fossero stracolmi e i lidi balneari affollatissimi. La ragione però vorrebbe evitare che alla fine di questa estate si dovessero contare nuovi contagi. L'ipotesi di passaporto sanitario per poter accedere in Sicilia a partire dal 7 giugno ha generato polemiche, in particolare dalla regione più colpita dall'emergenza coronavirus. Il sindaco di Milano Beppe Sala non ha digerito uno scenario ritenuto evidentemente discriminatorio. Quando deciderò dove andare in vacanza me ne ricorderò, ha detto il primo cittadino milanese. Dobbiamo stare attenti alle esagerazioni, risponde Musumeci. Non è che tutti gli abitanti della Lombardia e del Veneto sono portatori di virus. È chiaro che serve un minimo di prudenza. Il sindaco Sala ha avuto una battuta infelice ma conosce bene il nostro senso di accoglienza. Il governatore insiste su una condotta unitaria per ciò che riguarda la mobilità sul territorio nazionale, invitando il governo a dettare una linea omogenea. Sulle date però ci sono ancora parecchi dubbi. L'ordinanza in vigore stabilisce che la mobilità interregionale, da e per la Sicilia, è interrotta fino al 7 giugno. Ma se nella fase 2 non ci sarà stato l'aumento dei contagi, ha assicurato il governatore, saremo nelle condizioni di poterla affrontare. Il dato certo oggi dice che i turisti vogliono tornare in Sicilia, argomento al centro del recente incontro tra governo regionale e sindaci delle isole minori. Ma non esiste la sicurezza al 100%, conclude Musumeci. Diciamocelo con grande sincerità, al di fuori di ogni ipocrisia.